Proteggere è un istinto. Naturale come un tocco. Semplice come un sorriso. E potente come ciò che ci lega a chi amiamo. C'è una famiglia tutta italiana che dal 1979 ci aiuta a proteggere la sicurezza della nostra casa. Beninca. Grazie agli oltre 40 anni di esperienza, oggi Beninca è sinonimo di innovazione, tecnologia e prestazioni di altissimo livello nel campo dell'automazione per cancelli e porte da garage in tutto il mondo. Beninca progetta e realizza sistemi di automazione per ogni esigenza. Dalle grandi strutture fino al cancello automatico di casa. Qualsiasi sia la vostra necessità, visitate il sito beninca.it. Potrete contare su una grande azienda, affermata nel mondo ma dal cuore italiano. Beninca. Technology to open.